Sono contenta, sono felice, solo al pensiero che saranno tutti lì per me, questo già mi riempie veramente di tantissima felicità. Me l'ha chiesto l'anno scorso anniversario, si è mezzo inginocchiato a letto e mi ha detto sono solo questo ma se vuoi questo è infermiere tuo. Chi mi dica non sei emozionato, non sei emozionato, io sì, ho quel minimo di ansia ma non mi sento così emozionato da star male. Poi magari quando sarò lì piangerò come una fontana, cercherò di resistere ed era un giorno importante per me e per i miei figli. Siamo già un bravo ragazzo, noi siamo contenti, fa parte della nostra famiglia ormai da tanti anni, ama moltissimo Fabiana, questo è molto felice e quindi siamo molto contenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono emozionatissima, finalmente è arrivato il giorno quindi ci stiamo rilassando tutto sommato, sono contenta e soprattutto sono molto orgogliosa di mio figlio. Grazie a tutti. C'è gente che ha avuto mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo, io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. Andiamo? Andiamo, arriva! Grazie a tutti. Io che amo solo te, io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò, quel che resta della mia gioventù. Quanti anni fa Fabiana mi ha detto, devi presentarmi Claudio perché sarà l'uomo della mia vita, io ho avuto le mie perplessità pensandole molto diversi e a distanza di tutti questi anni capisco come l'uno compensa l'altro. E sono orgogliosa di aver preso parte la creazione di questa unione meravigliosa di due persone speciali. Dichiara il signor Mazzarelli Claudio Dale di voler prendere in moglie la signora Ferrante Fabiana Maria Francesca qui presente? Sì. Dichiara la signora Ferrante Fabiana Maria Francesca di voler prendere in marito il signor Mazzarelli Claudio Dale qui presente? Sì. I testimoni hanno udito? Sì. In nome della legge, io, Permella di Palma, consigliere comunale ed ufficiale dello Stato civile del Comune di Cavernago, per delega avuta, vi dichiaro un ultimo matrimonio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. che carriera che bella andiamo insieme bene un po amore odio siamo la litiga come è normale prima cosa che mi viene in mente è un po rompi mi spiace la tocca a tutti non vedo molto meglio meglio a te che a me per esempio adesso adesso aspettiamo le creature e aspettiamo di diventare zie ciao grazie claudio e fabi questa nostra stupida che cazzo d'amore che ti sconti quando piangi mentre fai la doccia quando sei da sola e ti senti bella e mi senti pronta per la vita che ti aspetta mi sto tornando a spegni tutto la cara per noi non potrà fermare tutto questo e che ovviamente siamo l'eterno che duri per sempre grazie mille 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 vi auguri per un buon futuro insieme spero che starete insieme per sempre per sempre per sempre No, no, no. 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 No, no, no.